Ciao, sono Daniele Doesn't Matter e benvenuti ad una nuova Try Not to Love Challenge Episodio 30 Dopo il 20 c'è il 30 30 episodi amici miei e solo in 3 video siete riusciti a farmi ridere Come? Come fate a farmi ridere? Segnalandomi un video divertente sul mio subreddit che trovate nella descrizione di questo video Io devo cercare di resistere ma se voi riuscite a farmi ridere Riceverete in regalo una maglietta California personalizzata Ma non è per niente facile perché su YouTube ho visto un sacco di video divertenti per il mio canale Quindi sarà forse questa la volta buona dove cadrò in preda alle risate grazie ad un vostro video? Lasciate un like a questa puntata e partiamo Perfect Calendar 978, questo ti spezza Allora vai Malè, sei pronta? Blowjob Blowjob Genderfluid Genderfluid Odorino laringoiare Loryn... 4k 4 gatti Rotterdam Terror Corps Do... 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 Call of Duty Mother Warfare 2 Call of Duty Mother Warfare 2 Call of Duty... Game of Thrones Diedro's Thrones Happy Birthday Il Mille del Bianco Happy Birthday Happy Birthday Happy Malè Happy... Birthday Be... Bes... Bess... Happy Birthday Happy Bolei Sashimi Sashemi Imaranza Lavananza Lavananza Rottweiler 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 Body Shaming Body Shaming Body Shaming Masterclass 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 Catcalling Ah, fantastica! Sì, è stato simpatichino, solo il finale secondo me ha rovinato tutto. XX Pro Shadow XX! Il mio primo video, spero ti faccia ridere almeno dentro. Questo è stato fichissimo. Non riesco a togliermi dalla testa il cane che rotola. Ok. È andato. Dicendo è andato stavo per ridere da solo. Fiore Ross 97, bellissimo questo, ci riprovo. Quale sono io? Con questo ci suonate pure? Lo riposo. Avete che i piccioni che fanno sesso muoiono? C'è un perché? No, non lo so, però quello che mi sono fatto io ieri... Quando non ho niente nel culo non so proprio cosa dire. Tieni. Io penso di aver risposto. Me li mangio a colazione. Giraya 07, un classico. No, non so, però non so. No, non so, ma non so. No, non so, ma non so. No. 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 Divertente Business basi 79,97 Il buon vecchio ciccio non delude mai Addirittura questo video mi sembra già alzicocolato Punto di vista sei un poliziotto americano Qui sono stato un pezzo di merda regà Qua sono stato un pezzo di merda Perché se avete notato io non ho voluto ammazzare Uno solo Quindi che ho fatto con lo scarme e sono salito sopra Boom botta a lui Ho visto non c'è parla sovrascudo Ho detto vabbè questo già sta messo una merda Ho visto l'altro Ho detto sai che c'è quest'altro l'ammazzo Perché c'ha la skin Vabbè su tutti i ragionamenti miei Ammasso quell'altro Quell'altro gli ha lanciato Lancia razzi Quelli Io ho ammazzato uno Quell'altro l'ha ammazzato Con lancia razzi gli ha ammazzato l'altro Regà Non delude mai Crypto XDXF Tentativo numero uno Ci riuscirò Già ci riuscirai Zeus si arrabbia No ho capito niente Nuda novecento La nonchalance Do you want now? Do you case numbers in Alabama? The increase in access They are We're getting a Excuse me A slight increase in the number of doses That we'll be getting to the state So that Ma È un rutto fantastico Phil Moss Questa volta devo farcela per forza Vincerò In bocca al lupo Wee 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 Non è un tipo quello davanti Quello dietro Non è possibile E la cosa strana È che Stiamo facendo i lavori sul balcone Di casa E c'è l'operaio che ha bucato E perché vi sto dicendo questo Ha bucato perché hanno trovato un sacco di chiodi Davanti al cancello di casa nostra Let's go Let's go Let's go Ma Ma Mia sorella succhia e indovina il gusto Pronta a succhiare e ad indovinare che cos'è appena succhiato? No Vediamo Chiudi gli occhi Apriamolo Prendilo in mano E bevi Vai Ingoia tutto Così capisci bene il gusto A che gusto è? Banana? No Prendilo di nuovo E ingoia bene tutto Dai è facile Ah l'anassolimone Limone brava Oggi voglio provare un record ragazzi Voglio provare a spruzzare tre volte in un minuto Vai Iniziamo con una bella spruzzata bianca In primo piano Vai Sì Uno Due Vai Un'altra spruzzata Sì Vai che facciamo anche la terza Sì ed è record È record ragazzi È record La prossima volta proverò a spruzzare quattro volte Sì Oddio 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 regà L'ultimo pezzo faceva schifo ma Stavo C'è stato un momento dove stavo morendo Stavo morendo Mi sono venuti gli occhi lucidi Ringrazio che hanno messo le parti peggiori alla fine del video se non sarei esploso Usop97 Mi sa che Gesù mi sta guardando male ora Quando il tuo cane è cieco E tu sposti il divano Forse lo avevamo già visto ma fa sempre ridere Valentino Bevoita Ciao Daniele guarda questo Negro con il numero 15 Attenzione a negro Scusate attenzione a Greco scusate Si è confuso E siamo giunti agli ultimi video di questa puntata Masada Rama Maglietta personalizzata in coming Direi di sì Sei molto sicuro di te Perché non vai in piscina con i tuoi amici I miei amici No la maglietta è lontanissima amico mio Terz'ultimo video per oggi L'Uberry Galliball 631 potrebbe funzionare Cosa si prova ad avere un migliore amico gay? Da quando il mio migliore amico ha fatto coming out Tutti quanti mi hanno chiesto Ma cosa si prova ad avere un migliore amico gay? E la verità ragazzi è che non ne ho idea Non ne ho idea perché ho deciso di rimuoverlo dalla mia vita E mi sono rifiutato di essere suo amico Questo chiaramente non perché fosse gay Ma perché ha ucciso due persone Cosa grave quasi quanto l'essere gay Penultimo video per oggi Paul Co Cristo Roma Città dell'arte Mi piacciono queste cose E ridendo e scherzando siamo giunti all'ultimo video Dell'ultima Try Not To Love Challenge per quest'anno Spero che sia qualcosa di incredibile l'ultimo video dell'anno Borto 115 E' sempre lui Quando finalmente il ragazzo autistico della tua classe Riesce a capire qualcosa Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Hai capito? Voi avete capito? Io ho capito Prato sapete che Ma perché Ciccio fa sti versi? Mi uccide? Guardiamone ancora uno Dai Stefano dalla Puglia E andiamo E destino Dobbiamo chiudere con Ciccio Punto di vista Il tuo miglior amico Ti ha proposto di andare a puttane Potremmo Che fai? Che fai? Non butti una piotta E facciamolo E facciamolo E facciamolo Let's go Sti cazzi Si vive una volta sola Ma let's go Let's go Dai l'ultimo per davvero JPP86 Sono un elefante Dare un appuntamento O uscire con un prestigiatore Ehm Gurgh Ehm Ehm Did you just finish? Yeah Inside of me? I don't know Check your mouth Questa è una degna conclusione Per quest'anno Bene ragazzi L'ultima Try Not To Love Challenge Dell'anno si conclude qui Io vi auguro buon Natale Visto che dopo domani sarà Natale E vi ricordo che se pensate di avere il video Che mi farà ridere l'anno prossimo Con le nuove Try Not To Love Challenge Segnalatemelo nel subreddit Che troverete nella descrizione di questo video Amici miei Ancora tanti auguri Un bacione alla mamma California E noi ci vediamo al prossimo video Ciao